Ciao, prima di tutti mi presento, sono Danilo, sono un volontario della Pubblica Assistenza Avis Montemarciano, stiamo facendo questa campagna per cercare tra virgolette nuovi volontari che puoi essere anche tu, se vuoi saperne anche di più, viene dalla nostra sede che ci sono dei ragazzi molto preparati che vi diranno tutto quello che volete sapere della nostra associazione. E in più stiamo cercando di acquistare una nuova ambulanza e aderisci anche tu alla campagna Diventi il mio angelo.